Ben ritrovati, ospite di Spazio Città, il professor Guglielmo Minervini, che è assessore regionale alle politiche giovanili, ma che oggi abbiamo invitato qui come contendente ad Emiliano e a Dario Stefano dell'investitura alla candidatura presidente della Regione Gruglia. Bentornato Minervini, è un po' che non ci vediamo. Con molto piacere, avvertivo una certa nostalgia di questi studi. Allora, chi gli ha fatto fare? Nessuno, fondamentalmente nessuno. Mi porto dentro una sorta di legge, no? Quando non sai dare risposta a questa domanda, vuol dire che sei sulla strada giusta. Un mio maestro mi indicava sempre questa sorta di regola di vita, nel senso che le cose importanti della nostra vicenda si fanno perché ad un certo punto avverti il dovere di farle. E non ti chiedi se ti conviene, se è opportuno, le fai e basta. Si riferisce a Don Tonino Bello? Non lo voglio citare. Eh, lo so che lei non lo vuole citare, per questo lo cito io. E che candidatura è la sua? Cioè, a un certo punto Stefano si propone come rappresentante della sinistra, diciamo, della coalizione. Invece, la sua candidatura, dove la dobbiamo, come la dobbiamo collocare? E perché? Visto che lei è dello stesso partito di Michele Emiliano, che in questa fase appare come il kraken della situazione. Io ho... Anche fisicamente, diciamo. Le physique du rôle, no? Io non ce l'ho, ecco, sono in questo senso, diciamo, un antieroe. E sono pieno, tra l'altro, anche di acciacchi di difetti. Quindi, diciamo, offro questa candidatura con tutta la fragilità, con tutta la debolezza, che però vuole esprigionare la forza di un popolo. Io credo che sia un errore, una regressione, se queste primarie dovessero diventare una sorta di esercizio muscolare tra PD e SEL. Nel 2005, nel 2010, le primarie in Puglia sono state altro, sono state un popolo che si è riconosciuto in una domanda di cambiamento. Un popolo che liberamente si è riconosciuto in una domanda di cambiamento. E questa domanda non aveva l'etichetta, non aveva la maglietta di un'appartenenza, aveva il profumo, appunto, di una grande speranza. Io lì mi voglio collocare, in una domanda e in un popolo. Una domanda, appunto, che riguarda la possibilità che la Puglia continui a cambiare. Io credo che in questi dieci anni ci abbiamo provato gusto, abbiamo capito che significa rialzare la testa, rimetterci in piedi, cominciare a camminare con le nostre gambe. Avverto forte che questo popolo del cambiamento chiede di continuare. E di questa domanda io voglio poter essere interprete. Il mio luogo è quello, appunto, della comunità, quello del popolo, quello delle persone, che indipendentemente dalle scelte di appartenenza, anzi, a maggior ragione, oltrepassando il senso di ogni vincolo di appartenenza, dice, io voglio scegliere la migliore proposta di cambiamento per la Puglia. Sto fuori dai giochi, appunto, dei partiti, voglio interpretare, diciamo, la domanda di una società, di una comunità, di una Puglia che è cambiata. Io penso che, soprattutto, è cambiata nella consapevolezza che i pugliesi hanno di se stessi. La mia proposta si rivolge ai pugliesi, non si rivolge né all'elettorato del PD né a quello di Sera, ma ai pugliesi in quanto tali, perché sono loro, secondo me, i protagonisti, vero, di quello che è accaduto, di più bello, di più interessante, di più stimolante, di più dinamico in Puglia in questi dieci anni. Non è un leader. La storia di questi dieci anni è un popolo. È la storia dei prossimi cinquei vorrei che continuassi ad essere un popolo. Lei ritiene sia stata data quella risposta al cambiamento che la Puglia chiedeva dieci anni fa? Perché, guardi, Minervini, io, la campagna delle primarie di dieci anni fa, sono passati dieci anni, diciamo, il che ci deve preoccupare molto, diciamo, per la nostra età. La ricordo distintamente. Stiamo invecchiando, però l'importante è restare giovani dentro. Eh, vabbè, ci consoliamo così. Eh sì, insomma. Dicevo, la ricordo perfettamente, perché inizialmente, anche come televisione, debba un basso profilo, perché la vittoria di Bocce era così scontata rispetto a Nichi Vendola, che era sostenuto solo dalla sua partita e dai Verdi, che sembrava quasi una farsa. Ci sono delle forti analogie con lo scenario di oggi, eh? Poi mi accorsi, no, guardando le immagini, che mentre agli incontri promossi da Boccia c'erano gli apparati, a quelli promossi da Nichi Vendola c'era la gente. Ribadisco l'analogia con quanto sta accadendo in questi giorni in Puglia. E ci fu, all'epoca c'erano, Boccia era sempre accompagnato dai cinque sindaci, all'epoca erano cinque, le province, dai cinque sindaci di centrosinistra, i cinque presidenti delle province, che erano tutte e cinque in mano al centrosinistra, insomma c'era questa. Tutta l'armata. Alla fine vinse a sorpresa, ma non troppo, soprattutto negli ultimi giorni, infatti seguimmo, diciamo, vede che sta succedendo qualcosa, vinse Nichi Vendola. E sembrò che la radicalizzazione della candidatura di Nichi Vendola, che era una candidatura radicale appunto, rispetto a quella... Il comunista omosessuale. No, era, diciamo, aveva provocato quasi una rivolta. Era andata a votare gente che probabilmente non andava a votare da una vita. Era un voto di reazione quello che si era coagulato. Allora, a fronte di questo, secondo lei, le aspettative, no, derivanti da quella forte volontà di cambiamento, che, perché poi, insomma, Francesco Boccia era comunque una candidatura molto valida, è stata rispettata, perché lo stesso Michele Emiliano, che è stato nostro ospite la scorsa settimana, rispetto, lo farà per motivi elettorali, ma rispetto a Nichi Vendola pone degli elementi di forte discontinuità, delle intenzioni di forte discontinuità. Ma, intanto, io dico un paio di cose, diciamo, preliminari. La prima è che questa è stata la stagione di governo più lunga della storia della Regione. Dieci anni sono tanti. E io credo che abbiamo cominciato ad apprezzare il valore della continuità in sé, quando ovviamente è sostenuto da una buona esperienza, da una buona pratica di governo, no? E governare per un arco di tempo o congro significa fare le cose sul serio, fare delle cose che incidono, che lasciano il segno in modo profondo, in modo indelebile nel tessuto della comunità. Penso alle tante politiche che nel corso di questi dieci anni sono state realizzate, per esempio sul tema del governo del territorio, dell'urbanistica. Penso al lavoro pregevolissimo che ha fatto Angela Barbalente, penso alle politiche che abbiamo fatto per strutturare una vera e propria economia e industria turistiche, no? Nel nostro territorio, il turismo non esisteva in questi dieci anni, è diventato un pezzo importante della nuova economia pugliese. Penso al lavoro fatto nello sviluppo dell'industria creativa, no? Le politiche di questi dieci anni hanno consentito di impostare e strutturare sul cinema, sulla musica, sul teatro, sulla letteratura, no? Presidi importanti che oggi costituiscono anche qui un pezzo di occupazione, un pezzo di economia della nuova regione. Penso alle politiche dell'agroalimentare e così via, insomma. Cioè in dieci anni fai le cose e fai cose che restano, non cose effimere che magari possono essere spazzate via. La seconda riflessione che faccio è che noi oggi usciamo da questo ciclo, che è il primo ciclo così compiuto nel mezzogiorno. Non ci sono casi analoghi. Forse l'unico caso che si avvicina a quello della Puglia è quello della campagna di Bassolino, no? Finito male, finito con sciagure giudiziarie e con macerie che hanno seppellito il centro-sinistra per decenni. Ancora oggi il centro-sinistra campano non esce. Noi siamo gli unici ad arrivare a questo traguardo dopo dieci anni in piedi. Stiamo qui appunto a contenderci la prospettiva dei prossimi cinque anni. E questo credo che sia un fatto estremamente importante. Che cosa è la Puglia oggi? È una Puglia che sta in piedi appunto. È una Puglia che guarda con un certo orgoglio anche la possibilità di camminare nei prossimi cinque anni. È una Puglia che tutti gli indicatori ci dicono che sta tenendo anche rispetto a questo tempo di difficoltà, di crisi, a questa congiuntura di crisi alla quale... È sotto l'aspetto turistico e in controtendenza rispetto al resto dell'Italia. Allora, voglio dire un po' di più. Controtendenza positiva. Sì, voglio dire un po' di più. Voglio dire che la Puglia sta incominciando a guardare oltre la crisi. Sta indicando una strada per uscire in modo positivo, rafforzata dalla crisi. Non è solo il turismo, non è solo l'industria creativa. E anche, per esempio, quello che è accaduto in questi dieci anni in settori economici innovativi tipo, non so, l'aerospazio, l'avionica. Qualche giorno fa Renzi, che viene ad inaugurare la Fiera di Levante, subito apre, subito dopo va ad aprire un nuovo stabilimento qui a Mola di Bari, con altri 300 giovani laureati occupati per fare i satelliti che gireranno attorno al pianeta e che stanno in questo momento indagando il pianeta Marte. Sono made in Puglia, no? E' un settore di eccellenza sul quale la Puglia ha messo il primato in Italia, no? Penso alla farmaceutica, penso alla meccatronica, penso alle tante forme, per esempio, di industrie che stanno nascendo non solo sulle tecnologie digitali ma anche sulle tecnologie dei materiali. Insomma, mentre in questi dieci anni è morta, lo dico qui in un territorio che era fortemente segnato da questa presenza industriale, una certa manifattura, no? La crisi di Barletta in questi dieci anni è stata fortissima, in questi dieci anni in Puglia è nata una nuova idea di sviluppo e io penso che su questo noi dobbiamo lavorare. Il mio pallino è portare la Puglia oltre la crisi e si porta oltre la crisi facendo un investimento forte sul suo capitale. Io penso che le due risorse fondamentali di questo capitale sono, per un verso, il sistema delle piccole e medie imprese. Ecco, se c'è un passo in avanti da fare nei prossimi cinque anni è che abbiamo investito poco sulle piccole e medie imprese. Siamo stati troppo attenti magari alle grandi presenze industriali nella nostra regione. Il 90% del nostro tessuto è fatto dai piccoli e medi imprenditori. Quelli che tengono oggi sono quelli che investono nell'innovazione nei mercati esteri, nella internazionalizzazione. Dobbiamo lavorare di più in questa direzione. Il mio obiettivo è strutturare una politica che aiuti i piccoli e i medi imprenditori, quelli che hanno radici in Puglia a crescere. E dall'altra parte, l'altra grande risorsa, come abbiamo dimostrato in questi dieci anni, sono i giovani, le persone. Quelli che accumulando un forte capitale di sapere e di conoscenze in un'economia che già della conoscenza possono diventare i fattori di innovazione per le imprese. Se facciamo questo match, questo cortocircuito, secondo me la Puglia ce la può fare. Ecco, dieci anni per rimetterci in piedi, i prossimi cinque per tracciare la strada. Questo è il mio obiettivo. Ecco, poi diciamo agli aspetti programmatici torniamo tra un attimo. Però voglio fare un passo indietro e tornare al significato della sua candidatura. Innanzitutto, come la dobbiamo collocare? Nel senso che le primarie a cui abbiamo assistito a livello nazionale erano, tra voglio dire, Cuperliani, Renziani, Civattiani. Nel vostro caso, l'ex sindaco di Bari si dichiara fortemente Renziano, e anzi è più Renziano di Renzi. Per ciò che riguarda invece la sua posizione? Io c'ho solo una maglietta, quella della Puglia, quella dei pugliesi. Trovo questa rincorsa ad indossare addirittura magliette che segnalano l'appartenenza addirittura a correnti interne ai contenitori politici, la trovo come una regressione, un passo indietro. Oggi la partita si fa sulla Puglia, su quello che vogliamo fare della Puglia nei prossimi cinque anni, sul ruolo che vogliamo restituire ai pugliesi. E io di questo voglio occuparmi. Della questione politica e del mio vincolo di appartenenza politica ad un partito, credo che nei prossimi cinque anni interesserà di meno. Anzi, se posso dire un limite di questi dieci anni che abbiamo alle spalle, è che molto spesso nella vicenda pugliese, nel governo dei problemi dei pugliesi, l'interferenza della responsabilità che Vendola ha nel corso del tempo assunto rispetto al suo partito politico di appartenenza, l'interferenza è stata piuttosto rilevante. Se ci fossimo concentrati esclusivamente sulla Puglia, secondo me avremmo potuto andare molto più lontano. Molto spesso questa interferenza non ha giocato un ruolo positivo. Io vorrei invece garantire ai pugliesi che per me viene prima la Puglia e poi tutto il resto. Lo dico anche rispetto alle grandi partite che si giocano in questi giorni, per esempio sulla Puglia. Leggevo poco fa, prima di venire in questa trasmissione, della dichiarazione che ha fatto dei vincenti su TAP, per esempio a Melendugno. Ma adesso ci arriviamo su questo, perché poi insomma devo far emergere alcune differenze tra lei e i suoi competitori. Posso chiuderla così? Per me viene prima la Puglia e poi il mio vincolo di appartenenza al PD o a qualsiasi altro partito politico. La Puglia è il centro. Perché lei ha avvertito la necessità che ci fosse un'altra proposta proveniente, a prescindere di Cingosso la maglietta della Puglia, però è un esponente di spicco del Partito Democratico. Perché lei ha ritenuto che comunque dall'interno del Partito Democratico dovesse venire fuori un'altra proposta? Che cos'è che non garantisce Emiliano secondo lei? Ma guardi io ho fatto ormai... Che cosa non rappresenta Emiliano? Ho fatto diversi incontri, diversi confronti con Emiliano. Posso confessare che faccio ancora fatica a capire che cosa vuol fare della Puglia. Oltre all'affermazione preponderante e suberante della sua personalità, che è indubbiamente forte, marcata, visibile, faccio fatica a scorgere che cosa vuol fare in Puglia nei prossimi cinque anni. Ancora qualche giorno fa ci siamo incontrati a Molfetta, prima ci eravamo incontrati a Monopoli, poi a Cerignola, poi a Pulsano e faccio fatica a scorgere... Siete una coppia di fatto, diciamo. E diciamo, è molto bello incontrarsi in piazza, perché siamo una coppia di fatto in piazza, in pubblico, diciamo, in modo solare. Faccio fatica a scorgere che cosa vuol fare della Puglia. Io invece credo di poter dare un contributo proprio in questa direzione. So cosa la Puglia può diventare nei prossimi cinque anni, proprio perché ho la piena consapevolezza di quella che è diventata in questi dieci anni. E so che questa Puglia, nei prossimi cinque anni, possiamo farcela realizzarla, magari anche sfidando le utopie apparentemente più irrealistiche, solo se mettiamo in campo non una persona, diciamo, superdotata, un altro uomo solo al comando, un altro unto del Signore e così via, ma solo se mettiamo in campo un popolo, i pugliesi. Le cose più belle in questi dieci anni sono state realizzate quando la politica, anche il governo regionale, ha messo in campo il protagonismo dei cittadini, delle piccole imprese, dei giovani, dei sindaci, degli amministratori locali, della cittadinanza attiva. Solo quando abbiamo detto, insieme possiamo risolvere un problema, le cose sono accadute. Io penso che così si governi la Puglia, con una idea, con una visione di sviluppo e con un popolo. Questa è la proposta che ho avvertito mancava, diciamo, nell'offerta che si era configurata, anche tra Emiliano e Stefano, insomma. E questo spazio di mezzo, che non riguarda appunto la maglietta, ma riguarda la sfida di una comunità che vuole provare a farci. Ora, però no. Io penso che questo stia diventando la Puglia, una specie di regione in cui si respira una certa fiducia, una certa idea positiva sul futuro, in un paese che invece è terribilmente pessimista, scivola troppo facilmente verso il cinismo, rinunciatario, mi sembra un'Italia innamorata del proprio declino. La Puglia oggi è una felice anomalia, è come se guardano tutti una certa attenzione a noi, perché qui invece si respira, diciamo, una certa possibilità di farcela. E io di questo voglio poter diventare, diciamo, interprete. Vorrei poter dar gambe a questo clima. Ecco, Minervi, però, diciamo, le elezioni regionali sono delle elezioni politiche. Sì. Va bene. Perché la regione fa delle leggi. Assolutamente. Ne so bene, ne so qualcosa. No, lo voglio ricordare ai telespettatori. Quindi la politica è importante, e anche la visione della politica è importante. Il Partito Democratico, secondo me, vive un momento di grande transizione a livello nazionale. Onestamente, vabbè, è notorio, diciamo, la direzione che ha presa a me non piace. Però c'è un dibattito interno molto forte. Qualcuno parla di mutazione genetica, qualcuno dice siamo tornati all'ADC, altri invece sostengono con forza a quella che è l'azione di Renzi, che viene considerata, almeno nelle enunciazioni, rivoluzionaria. Sta di fatto che la questione delle larghe intese da cui si è partiti con il governo Letta e poi questa collaborazione con il centro-destra per le riforme istituzionali, che poi, diciamo, sta andando oltre le riforme le riforme costituzionali e si cominciano a fare anche accordi di carattere programmatico. In realtà, ritengo, sia creando un momento di grande confusione. Cioè, a un certo punto, l'elettorato non comincia a non capire più chi sta all'opposizione, chi sta in maggioranza. Sotto questo profilo, la vicenda delle provinciali, dove dobbiamo dire, per onestà, che lo scienziato del Rio, diciamo, che ha fatto di tutto per creare le premesse dei casini di questa degenerazione. Anche su questo condivido pienamente l'analisi. Non è stata una felice riforma. Ecco, prescindendo da questo, fatta la tara di questo, ho l'impressione che tutti abbiamo colto la palla al balzo per fare grandi inciunci. in Puglia, è successo di tutto. Noi abbiamo denunciato, da giugno, ci sono, verso YouTube, ci sono i miei pezzi, che si andava verso un tentativo di liste uniche. Poi ci fu la direzione del PD che stoppò questa operazione. E noi diciamo che comunque si sarebbe fatta sotto banco. Abbiamo avuto ragione a Taranto, abbiamo già preannunciato che a Brindisi vincerà il centrosinistra con i voti dal centrodestra e abbiamo invitato a scommettere chi non la pensa così. E poi c'è il caso Batte che è clamoroso con un presidente che sta là seduto mentre centrodestra e centrosinistra gli fanno l'offerta migliore per averlo come presidente. So qua c'è stato Napolet, lei è intervenuto fortemente. Allora, mi dice qual è la sua idea di coalizione politica? Perché qui Emiliano è stato sempre molto acido nei confronti sia di Michi Vendola sia di Stefano esprimendo una chiara preferenza per un allargamento della coalizione verso il centro, addirittura il centrodestra con NCD. La sua idea invece qual è? La sua idea di coalizione? Mi ha fatto un grappolo di domande più che una domanda specifica. vorrei provare a rispondere a ciascuna perché secondo me sono tutte cruciali e questo è il passaggio che stiamo vivendo. Passaggio nel quale la vera domanda che sorge è c'è ancora il centrosinistra? Va bene. Questo è il tema che ha come sfondo il quadro nazionale e come riflessi proprio quello che sta accadendo in questo momento nelle province pulchiesi. Ovviamente è forte la sensazione che quello che sta accadendo nelle province pulchiesi possa tracciare un solco sul quale si giocherà anche la partita e le prossime regionali. Questo è un po' il quadro generale. Io penso non voglio sfuggire ad un giudizio su Renzi e su quello che sta accadendo sul piano nazionale. Io penso che Renzi stia provando ad interpretare questa è la parte positiva una domanda di cambiamento fortissima nel paese e che nella misura in cui lui la interpreta in modo forte e credibile questo fa saltare gli argini e fa crescere anche la capacità di raccolta del consenso del Partito Democratico oltre i suoi perimetri tradizionali rompe gli argini senza fare accordi senza la politica appunto degli accordi trasversali e la perplessità sorge sulla capacità poi di attuarla quella domanda di cambiamento di tradurla in una strategia di governo e su questo appunto io penso che sia ancora atteso alla prova dei fatti speriamo che non fallisca io penso che tutti gli italiani ragionevoli debbano sperare che Renzi possa farcelo perché se dovesse maturare un fallimento davvero la democrazia italiana non il Partito Democratico sarebbe gravemente a rischio detto questo è chiaro che oggi in questo momento il centro-sinistra nazionale non c'è più la frattura tra sella e PD e questo stato di emergenza diciamo di un rapporto che è nato da Monti diciamo spinto dalla necessità di salvare la legislatura e quindi il paese durando a lungo sta legittimando appunto una sensazione una spinta a fare in modo che questa emergenza come al solito succede in Italia possa trasformarsi in qualcosa di durevole e quindi è su questo che matura l'inquietudine sono d'accordo con te che questa inquietudine ha subito un riflesso sul piano locale complice anche l'imbastitura piuttosto strana piuttosto discutibile della riforma del Rio che ha favorito anche dal punto di vista dei meccanismi l'incrocio tutti i provvedimenti devono essere approvati dai due tempi esatto stai spingendo verso un trasversalismo ok noi abbiamo io ho denunciato per tempo prima ancora che queste vicende provinciali si maturassero ho denunciato una certa allegra disinvoltura con la quale Emiliano stava giocando i primissimi passi delle primarie e diciamo interloquendo raccattando mettendo insieme pezzi di centrodestra di centrosilistra di ceto politico di notabilato di prima repubblica di seconda repubblica è come se si stesse configurando una gigantesca mucchiata il cui contenuto che cosa fare dalla politica sfuggiva va bene questa cosa se ricordi bene è nata a luglio prima ancora che diciamo si parlasse delle province ed è esattamente accaduto quello che noi temevamo e cioè che noi ci troviamo come nostri interlocutori diciamo un ammasso informe dentro questo quadro regionale appunto poi sono nate le alleanze che hanno portato a Taranto ad un inciucio gigantesco tra PD e Forza Italia addirittura Forza Italia nemmeno centrodestra a Brindisi un inciucio tra nuovo centrodestra e Partito Democratico e qui nella BAT la storia che appunto tu hai raccontato molto bene allora solo grazie alla reazione del territorio e alla posizione del sottoscritto che ha incominciato a rompere le scatole su questo dicendo occhio che questo significa mettere in soffitta definitivamente il centro-sinistra far saltare le differenze alimentare fatalmente la convinzione nei cittadini che ormai non c'è più alcuna distinzione che siamo tutti uguali e secondo me questa è la fine del PD col 40% non è un'eredità diciamo intangibile è un investimento di fiducia ce lo bruciamo totalmente a Taranto 5 Stelle nelle ultime elezioni ha preso il 25% alimentare l'antipolitica significa dire siamo tutti uguali non c'è più alcuna differenza ecco perché ho suonato per tempo quella direzione regionale che ha imposto una revisione diciamo della linea dicendo alle province così non si fa si ritorna nel perimetro del centro-sinistra quella è stata sollecitata anche grazie alle reazioni delle quali diciamo io ho fatto sono stato un po' diciamo uno dei protagonisti va bene trovo molto positivo il fatto che ieri a Taranto hanno fatto retromarcia e i nostri rappresentanti obliquamente eletti all'interno della nuova struttura provinciale si siano dimessi dicendo il centro-destra ha vinto le elezioni governo il centro-destra noi faremo una limpida partita di opposizione spero che questo significhi che domenica prossima non ci troviamo di fronte alla cronaca di un inciucio annunciato come appunto denunciavi tu no? e se questo dovesse accadere vuol dire che siamo di fronte a una gigantesca però commedia plautina nella quale facciamo il gioco delle parti posso dire un'ultima cosa diciamo giusto per essere esplicito in fine in fondo io non difendo il centro-sinistra così come l'abbiamo interpretato in questi dieci anni solo perché sono un nostalgico per ragioni ideologiche io sono un uomo del centro-sinistra anche perché lei ha una provenienza cattolica non di sinistra io vorrei semplicemente sottolineare questo per essere esplicito fino in fondo per me il centro-sinistra è un valore per il semplice motivo che in questi dieci anni è dimostrato di essere diciamo una coalizione che è operato per il cambiamento non per la gestione del potere in questi dieci anni siamo stati insieme per cambiare la Puglia non per spartire gli interessi di qualcuno so se è chiaro e abbiamo attraversato momenti difficilissimi in questi dieci anni non abbiamo avuto un solo giorno di crisi sono stati anche dei momenti anche di conflitto ricordo visto che tu appunto richiamavi la mia estrazione culturale la legge sulla famiglia quanto è stata difficile mediarla proprio sul passaggio di cui il Papa in questi giorni si sta occupando il passaggio nel quale dovevamo stabilire se i servizi erano erogati solo per le famiglie diciamo tradizionali oppure dovessero essere stese ricordi anche la mediazione delle virgole degli aggettivi che noi abbiamo fatto oppure con una parte importante del mondo ecclesiale della struttura ecclesiastica diciamo per trovare una mediazione che spingesse la Puglia un po' più avanti rispetto a quello che la Chiesa di allora consentiva eppure ce l'abbiamo fatta abbiamo governato il cambiamento la Puglia è oggi diversa io ho inquietudine perché con questa gigantesca mucchiata in questo momento si stanno sottoscrivendo cambiali e io vorrei capire quanto costeranno quelle cambiali se dovesse vincere quell'ipotesi di governo ai pugliesi chi le pagherà e quali sono le cambiali che si stanno sottoscrivendo penso cioè che giungere ad un'idea di coalizione che faccia una gigantesca mucchiata semplicemente per tutti gli interessi forti di alcuni sia un passo indietro che la Puglia non può permettersi io ho proprio la pubblicità che non incombe urla però per concludere il ragionamento e poi dopo la pubblicità parlare di programmi e parlare anche di diverse visioni evidentemente di quella che dovrà essere la Puglia dei prossimi cinque anni rispetto ai suoi competitori per completare il ragionamento voglio capire diciamo con in modo estremamente semplice così ci comprendono tutti qual è comunque qual è la coalizione che lei immagina perché Emiliano oltre che candidato alle primarie è il segretario regionale del partito democratico che come segretario regionale sta lavorando a quella che dovrà essere la coalizione che scenderà in campo nella prossima primavera Emiliano lo ha dichiarato anche qui tant'è che una delle dichiarazioni forti su cui si è polemizzato fatte da Emiliano nella nostra trasmissione dice io sto lavorando a un accordo con l'Udc e se diciamo la posizione dei sindaci della BAT ha fatto saltare l'accordo con Spina che avrebbe in qualche modo garantito l'alleanza con l'Udc i sindaci della BAT si assumeranno le responsabilità quindi lui ci tiene molto a questa alleanza con l'Udc e con le altre forze centriste quindi ha un'idea di allargamento della coalizione il più possibile al centro sino ad arrivare addirittura al nuovo centro-destra e non si esclude a questo punto il taglio della sinistra cioè voglio dire di ciò che rappresenta Selle e così via perché Selle è su una posizione esattamente contraria a questa ipotesi la sua idea di coalizione qual è? ma io penso più che un ragionamento perché con il ragionamento poi giustifichiamo tutto io voglio capire se lei fosse se lei dovesse diventare il candidato alla presidenza della regione Puglia il nuovo centro-destra della coalizione lo vuole o no? l'Udc la vuole o no? Scelta civica la vuole o no? allora io fammi fare arrivo ad una risposta estremamente esplicita fammi fare però una premessa che secondo me è fondamentale si vincono le elezioni non con la logica degli accordi ma con la chiarezza delle proposte va bene parlando ai cittadini piuttosto che al ceto politico va bene non è il collage a dare forza ad una proposta politica ma la credibilità della proposta e la credibilità delle persone però questo giustifica tutto in genere? no non giustifica tutto giustifica la scelta che ha portato Renzi al 40% giustifica la scelta che ha portato Vendola nel 2005 2010 con scelte forti apparentemente perdenti sul piano delle alleanze ma alla vittoria va bene quindi io penso che la nuova politica funziona così soprattutto in un tempo di crisi in un tempo di disaffezione della politica è la chiarezza e la credibilità a fare la forza di una proposta politica io voglio mantenere saldo il legame con questo approccio detto questo chiarezza e credibilità significa per me il perimetro è il centro-sinistra quello che abbiamo conosciuto in questi dieci anni se c'è qualche forza politica che oggi dentro questo periodo o perimetro vuole dare il suo apporto il suo contributo lo dica e lo dica con chiarezza alla luce del sole ora io non so se ricordi ad agosto non oggi ho fatto una proposta di tre punti da condividere con gli altri due candidati come raccogliamo i soldi quanti soldi raccogliamo e come diamo trasparenza ai soldi che raccogliamo e qual è il perimetro della coalizione sui primi due tutti e due mi hanno dato immediatamente condivisione e assenso sul terzo Michel Emiliano si è sfilato perché la proposta che io facevo è quelli che si riconoscono nel perimetro della coalizione e partecipano alle primarie sono parte della coalizione scelte politiche l'idea appunto che si possa replicare su scala regionale quello che tu hai denunciato giustamente qui nella BAT è cioè che l'Udc scelga il centrosinistra piuttosto che il centrodestra a seconda del miglior offerente e mercimonio al quale io non voglio concorrere se l'Udc ha interesse a camminare insieme con noi per portare avanti quel progetto di cambiamento della Puglia lo dica ora e lo dica alla luce del sole sulla basso di una scelta politica se non lo dice ora per quanto mi riguarda non saranno interlocute per ora che cosa intende? ora ora entro il 30 novembre entro il 30 novembre c'è la data delle primarie si gioca mentre per ciò che riguarda il nuovo centrodestra che diciamo è l'elemento di frizione più intendiamoci una cosa che si chiama il nuovo centrodestra con il centro sinistra secondo me non è compatibile per me non è compatibile proprio non c'è compatibilità stanno dall'altra parte mettiamola così io sto da questa parte perché mi porto dentro ancora fame e sete di giustizia se non avessi questo probabilmente non farei più politica va bene chi te la fa fare ecco questa fame io penso che il nostro compito sia provare a cambiare le cose dal punto di vista dei più deboli di quelli che non ce la fanno di quelli che arrancano e soprattutto in questa fase di crisi di quelli che rischiano di restare fuori dal gioco se il centro sinistro non è più questo non mi interessa so se è chiaro allora se una cosa si chiama nuovo centrodestra perché semplicemente diciamo è convinto che si possa fare politica con altre logiche con altri valori con altri obiettivi lo faccia pure ma non sta dalla mia parte con loro mi misurerò sul terreno delle idee magari delle volte ci troveremmo anche d'accordo ma il mio percorso di cambiamento della Puglia segue un'altra strada tutto qui con estrema chiarezza e con estrema limpidezza allora ci fermiamo per un minuto di pubblicità poi torniamo in studio e vediamo un po' alcune differenze e nell'azione più globale della Puglia di quella che dovrà essere la Puglia dei prossimi 5 anni e su alcuni argomenti specifici che poi daranno idea comunque di una diversa visione della Puglia lo facciamo tra un minuto di pubblicità bene siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al professor Guglielmo Minervini che è assessore regionale alle politiche giovanili ma è qui come candidato alle primarie del centro-sinistra per primarie per la candidatura alla presidenza della regione Puglia alle elezioni della prossima primavera come dicevamo prima dell'interruzione pubblicitaria voglio parlare di alcuni alcuni aspetti programmatici e di alcuni aspetti particolari ma importanti che serviranno a far capire qual è poi la sua visione della Puglia dei prossimi cinque anni innanzitutto mi ricollego ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio cioè a quell'aspettativa di cambiamento che c'era stata con l'elezione di Michimello lei ha sottolineato alcune verità riguardo proprio le politiche giovanili il sostegno che è stato dato al turismo al rilancio dell'occupazione dei giovani e ai rapporti con la piccola e media industria che diciamo anche in Puglia sono l'elemento trainante dell'economia insieme al turismo dove però si avverte la maggiore delusione dei pugliesi è sulla sanità dove diciamocelo francamente si è arrancato e si arranca liste d'attività lunghissime piano di riordino ospedali che non si capisce ancora che fine devono fare perché io sento non è che auspico faccio cronaca sento parlare della chiusura dell'ospedale di Trani della chiusura dell'ocento di una serie di chiusure di ospedali che non ci sono state non so forse è meglio che non ci siano state però si arranca e su questo la gente è delusa e ad esempio è di questi giorni la polemica sulla soppressione della struttura di cardiologia riabilitativa che sta nell'ospedale di Barletta per dire allora che cosa si deve fare per alleggerire il peso dei costi della sanità pugliese e dargli quell'efficienza che Nichi Vendola ci aveva promesso e che non ha mantenuto sì fammi anche qui dire una cosa brevissima in via preliminare e poi arriviamo alla sanità io penso che la partita della Puglia nei prossimi cinque anni non si giocherà sul terreno della sanità ha la priorità dal mio punto di vista nella mia testa nel nostro assolutamente ci arrivo voglio dire che l'ansia che non ci deve far dormire la notte è la possibilità di riaprire nuove piste di sviluppo e di allargare gli spazi di occupazione il lavoro va bene sviluppo e il lavoro perché sono tra l'altro hanno a che fare con la sanità nel senso che se costruiamo un percorso nel quale la Puglia ritrova la sua strada molte cose anche della sanità funzioneranno molto meglio secondo me questa è la vera priorità sulla quale secondo me bisogna concentrare tutte le energie se ne parla troppo poco e invece è la partita del paese il paese sta fondando l'Italia sta fondando chiudi gli occhi e non riesci ad immaginare che l'Italia può essere nei prossimi cinque anni di questo dobbiamo parlare sanità è vero che assorbe il 70% del bilancio regionale e che costituisce il servizio più preponderante anche per la vita delle persone per l'impatto che ha sulla vita delle persone non c'è ombra di dubbio cosa lasciano questi dieci anni e cosa secondo me dobbiamo provare a raggiungere nei prossimi cinque cosa lasciano questi dieci anni lasciano secondo me un paio di cose importanti che sono un buon punto di partenza indubbiamente il percorso è molto accidentato si tratta di un pacchiderma gigantesco di un sistema molto faraginoso all'interno ancora caratterizzato da grandi dissipazioni da troppe insopportabili zone d'ombra va bene ci sono ancora troppe inquietudini su quello che accade all'interno e che ogni tanto occupano la cronaca nera la cronaca giudiziaria i furti dissipazioni corruzione sprechi e quant'altro c'è ancora tantissimo da fare però quello che questi dieci anni ci lascia secondo me sono due cose fondamentali uno anche qui una sanità in piedi voglio ricordare a te e a tutti i telespettatori che la Puglia è l'unica regione che non è stata commissariata dal Lazio in giù il Lazio è commissariato la Campania è commissariata la Calabria è commissariata Sicilia è commissariata sono implose nei debiti noi non siamo implose nei debiti siamo in una fase nella quale avevamo anche noi noi siamo partiti con le asla che avevano una spesa incontrollabile che alla fine dell'anno ci facevano piedi lista la richiesta del trasferimento e sistematicamente questo produceva un deficit di bilancio che i pugliesi ripianavano arriviamo ad oggi va bene con un budget assegnato e tutti quanti che rispettano e finalmente non abbiamo più ripiani la nostra asla ha chiuso in attivo perfetto però se chiudiamo le sale operatorie facciamo un attivo maggiore arrivo arrivo dobbiamo vedere come si arriva questo è un bilancio stiamo in piedi e stiamo in piedi senza che da Roma appunto ci dicono le cose da fare due abbiamo secondo me il risultato più importante abbiamo messo in ordine la rete ospedaliera siamo partiti anche qui con l'idea molto diffusa diciamo nella cultura nostra lo dico anche appunto da Molfettese che viveva con un certo orgoglio il tema dell'ospedale della propria città no con l'idea appunto che gli ospedali dovessero stare sotto i campani ne avevamo un sacco dieci anni fa usciamo con una prospettiva che va solo realizzata secondo me l'obiettivo è realizzare di 14 presidi ospedalieri cioè anziché avere un pulviscolo di ospedali malmessi precari con scarso personale con inadeguata attrezzatura con qualità di prestazioni scadenti e quindi a rischio per la nostra salute arriviamo a 14 nuovi ospedali con 350 posti letto con tutte le specialità di base in grado di gestire l'emergenza con vorrei augurarmi e dobbiamo lottare per questo i primari giusti i medici giusti al posto giusto va bene senza interferenza questa è la prospettiva nella quale oggi la Puglia si trova i primi due sono stati già cantierati quello di Taranto e quello appunto di Fasano probabilmente entro la fine dell'anno parte quello di Andria se riusciamo a raggranellare le risorse dobbiamo partire quello di Andria l'obiettivo è realizzare gli altri 11 i prossimi 5 anni sarà mettere un punto fermo diciamo entrare nel nuovo mondo in cui finalmente diciamo la battaglia del campanile viene messa dietro l'esigenza di tutelare diciamo il diritto alla salute dei cittadini a me non interessa fare 5 minuti di macchina in più per arrivare all'ospedale mi interessa che quando entro a sono trattato come una persona e non come un numero non come una persona diciamo come un impiccio come un problema e b il trattamento di cura da cui sono sottoposto e se è il migliore possibile mi garantisca che ne esco diciamo nel miglior modo possibile detto questo nei prossimi 5 anni secondo me c'è da occuparsi dell'altra parte del problema che abbiamo un po' tenuto sullo sfondo abbiamo parlato troppo di ospedali negli scorsi 10 anni non abbiamo parlato invece di quello che la sanità deve fare fuori dagli ospedali prima che le persone arrivino agli ospedali il sistema non può essere concepito come un sistema che aspetta che la malattia maturi per cui la prendo in carico solo quando la domanda di cura prende forma è troppo tardi non funziona così tutti i sistemi moderni non funzionano più così funzionano appunto mettendo i cittadini al centro e partendo la loro capacità di essere protagonisti anche del proprio benessere della propria salute e su questo non abbiamo fatto molto bisogna lavorare tantissimo le case della salute immaginare per esempio che sui territori ci siano preside nei quali i medici si mettono insieme per garantire tutta una serie di prestazioni anche avanzate anche il tipo di agnostico vogliamo abbattere le liste d'attesa se si creano le case della salute tutta una serie di prestazioni di agnostico l'ecografo può essere preso insieme a un pool di medici che magari integrando anche competenze specialistiche diverse possono consentire di erogare molti più servizi ma devono essere convenzionali ma se non riuscite a pagare i laboratori di analisi Roberto si è giusto no 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 non è che attenzione lì è stato contingentato noi che li paghiamo quegli economie di gestione oggi ci consentono di cominciare a prendere una quota dalla spesa ospedaliere e buttarla nella medicina preventiva sì però arrivato a settembre i laboratori non accettano più diciamo i laboratori privati è certo perché lì c'è stato una stretta un contingentamento che ha consentito di controllare la spesa attenzione diciamo anche su quello possiamo fare un ragionamento trasparenza io immagino i prossimi 5 anni con al centro non il medico l'ambulatorio ma con al centro i cittadini proviamo a guardare il sistema come vi ho visto da fuori allora possiamo per esempio cominciare a dire in modo trasparente perché abbiamo ormai tutti gli strumenti digitali per fare questo quante prescrizioni diagnostiche fanno i singoli medici di base se un medico di base ha 100 pazienti un altro medico di base ha 100 pazienti da un medico di base escono le prescrizioni di 30 tac e da un altro invece ne escono 3 qualche cosa c'è che non funziona questi parametri ormai sono tangibili diciamo noi abbiamo tutti i dati possiamo renderli pubblici possiamo fare in modo che appunto sul tema delle prescrizioni diagnostiche si incomincia a fare un'attività di controllo di monitoraggio seria perché su quello c'è tantissimo spreco che ovviamente abbassa la qualità appunto delle prestazioni gli aumenta le liste d'attesa cominciamo a controllare le cose che non funzionano a fare in modo che l'assessorato sia nelle condizioni di esercitare questo monitoraggio ma anche i cittadini cliccando su tutte le zone d'ombra che in questo momento sono inaccessibili sulla sanità ci consente di dire occhio che lì dentro c'è quel reparto che non funziona c'è quel laboratorio che non funziona anche la valorizzazione e io aggiungerei addirittura la pubblicizzazione di alcune cose che già ci sono io faccio sempre un esempio i pronto soccorso sono presi d'assalto perché nessuno va alla guardia medica perfetto la guardia medica se noi facciamo un sondaggio facciamo la stragrande non sanno neanche che c'è dove sta quali sono le prestazioni e c'è poi un elemento di forte sfiducia perché si è convinti che a fare la guardia medica sia messo diciamo o un medico alle prime armi o qualcuno che diciamo è disponibile a fare un tipo di servizio che non è proprio tra i più gratificanti ma soprattutto che cosa ha a disposizione la guardia medica per poter dare la risposta al paziente mettere il cittadino al centro significa guardare le cose che non funzionano con l'occhio del cittadino quello che non funziona sono i poliambulatori qualcuno sa dell'esistenza dei poliambulatori del dentista pubblico dell'oculista pubblico ormai noi ci siamo messi in testa ci siamo assegnati l'idea che quel tipo di prestazioni si ottengono solo a pagamento i distretti sociosanitari funzionano i distretti sociosanitari funzionano come dovrebbero funzionare come funzioni in altre regioni per esempio del nostro paese cioè monitorando quali sono le patologie più frequenti del territorio e avviando delle campagne di screening preventivo se in un territorio c'è una eccedenza di cardiopatie si prendono tutti i maschi che soffrono appunto di pressione alta e si sottopongono a screening preventivo questo non c'è ancora le case della salute i poliambulatori che devono funzionare come strumento anche per prevenire la domanda di salute insomma l'idea che il cittadino deve essere al centro e che dobbiamo strutturare tutti i servizi fuori questa non l'abbiamo ancora credita e il vero grande ritardo che abbiamo accumulato in questi dieci anni perché ci siamo occupati troppo di ospedali secondo me i prossimi cinque anni dovremo occuparci di questo siamo già tra l'altro ci sono anche tutta una serie di domande da fare mi deve dare delle risposte telegrafiche delle risposte flash allora gasdotto TAP Emiliano ha detto di essere favorevole lei? io penso che il gasdotto si possa fare ma non a mele dugno è un crimine pensare di farlo nel posto più bello della Puglia e dove si deve fare? ma per esempio ci sono almeno due ipotesi alternative una è quella di Otranto dove c'è già un gasdotto che non verrà realizzato autorizzato immagina insomma se è tollerabile il fatto che stanno due gasdotti praticamente simili a distanze di 30 km e non si capisce quindi spostarsi semplicemente di 30 km il problema è che questo costringerebbe due soggetti economici che si stanno facendo una gigantesca guerra commerciale a mettersi d'accordo io penso che il governo nazionale debba esercitare la funzione della politica il presidio dell'interesse pubblico c'è a nord invece tutta la zona estremamente compromessa di Brindisi con zone industriali con inquinamento ma significa in questo caso un allungamento? no è un avvicinamento invece alla zona di raccordo a terra che è a Mesagne sbucare a Brindisi significa arrivare in un intervallo più breve le alternative ci sono e la politica che deve fare anzi il governo nazionale che deve fare la sua parte però non può dire quello che ha detto oggi De Vincenti il gasdotto si fa a Melendunio punto e basta De Vincenti è del mio partito anche qui io ribadisco viene prima la Puglia che il mio partito mi piacerebbe sentire questa cosa anche da parte di Miliano la Puglia è cresciuta enormemente sotto l'aspetto turistico prima era soltanto Gargano e Salento adesso diciamo l'intera Puglia si è organizzata sta di fatto che come strutture alberghiere siamo ancora piuttosto indietro nel senso che ci sono ma qui abbiamo qui si aprirebbe tutto un ragionamento a San Giovanni Rotondo stanno gli alberghi che aprono giusto il sabato perché arriva il pullman dei pellegrini che sta a mezzagiornata generalmente organizzato da qualcuno che vende le pentole durante il viaggio che tra poco faranno l'allacciamento della corrente per tre ore San Giovanni Rotondo che stanno due volte di più gli alberghi rispetto ai flussi diciamo che c'è stato una proliferazione non governata ma voglio dire anche nel abbiamo visto alberghi di spa che era magari navaschi idromassaggio cioè ci sono in questo si inserisce la polemica su questo mega insediamento turistico nel Salento che è stato bloccato con grande risonanza nazionale e sovranazionale lei che idea ha su questo insediamento e diciamo su come favorire insediamenti alberghieri che non siano non rappresentino diciamo uno scempio di quello che è il nostro ambiente ma che diano qualificazione vera al turismo pugliese ma la dico con una battuta molto rapida noi in questi anni la cosa che abbiamo scoperto e secondo me è fondamentale è che il nostro ambiente è una risorsa è la vera risorsa di cui disponiamo per costruire appunto una prospettiva di sviluppo i melendugnesi non vogliono il gasdotto perché quella spiaggia è per loro una risorsa economica di straordinario pregio ok lo sviluppo del turismo è possibile se non compromettiamo con una logica diciamo molto radicata nel passato la nostra risorsa se non mettiamo le mani rapaci sul nostro territorio se non cogliamo cemento nei posti sbagliati e di quell'insediamento turistico sono mani rapaci io sono un imprenditore che vuole investire vuole importare con la mia collega Barbanenti in questi anni abbiamo definito regole e strumenti per capire quello che si può fare e quello che non si può fare per governare un po' al centro per governare lo sviluppo del turismo le condizioni che consentono lo sviluppo del turismo lì ci sono dei vincoli ci sono degli ulivi del 500 e c'è una situazione di grande pregio ambientale il piano paesaggistico dice delle cose il comune non sia adeguato al solito non c'è una risposta pregiudiziale si seguono le regole e le regole sono diciamo non talebane non ispirate all'intoleranza sono regole diciamo di saggio governo il mio modello di sviluppo turistico non è la Romagna della costa riminese che in 15 anni ha distrutto tutto e quindi poi si è svenduta con un'offerta turistica di basso profilo molto popolare ma di basso profilo il nostro modello deve essere il Trentino che da 30 anni è una destinazione turistica che regge proprio grazie al mantenimento di questo equilibrio io penso che i prossimi 5 anni debbano essere grazie anche al fatto che ci hanno una barca di soldi da spendere hanno i soldi però hanno anche la cultura del territorio io penso che i prossimi 5 anni cambiano i fiori ogni settimana perché non sanno come spendere i soldi seguimi il caso di Gallipoli di quest'anno il trattato De Gasperi Gruber lo dovremmo rivedere sono d'accordo sono d'accordo c'hanno troppi soldi sono d'accordo però la partita nostra Gallipoli diciamo di questa estate in qualche modo dimostra che i prossimi 5 anni dovranno essere ispirati ad un saggio governo del successo turistico adesso rischiamo di essere soffocati da questo successo se non siamo diciamo intelligenti nel governarlo in modo giusto per esempio un modo può essere puntare sempre di più alla destagionalizzazione il turismo non si legge in quei due mesi se concentriamo tutta la domanda in quei due mesi schiattiamo e facciamo schiattare anche il nostro ambiente se invece lo diluiamo lo facciamo diventare ed è quello il tentativo in atto un'ultima domanda le chiedo di rispondere in 30 secondi poi facciamo un'altra trasmissione perché è l'argomento perché lei ha parlato di regole e parlando di ambiente c'è l'elemento strettamente legato allo sviluppo turistico e parlando di regole ce ne veniamo alle energie rinnovabili la Puglia si è fatto vanto di questo però vabbè al di là del fatto delle zone deturpate dalle pale nella zona murgiana eccetera eccetera ci sono aziende che lamentano l'incertezza delle regole nel senso che dice noi presentiamo dei progetti che poi vengono bocciati con delle scuse cioè se la Puglia ritiene visto che produce più energia di quella che consuma di non dover più di non dover incrementare fotovoltaico piuttosto che paleolico eccetera eccetera se ce lo dice con chiarezza e ce lo dice legittimamente visto che è inattivo noi non spendiamo centinaia di migliaia di euro in progetti che poi vengono bocciate perché presento cento pale una sta su un ulivo secolare e anziché bocciarmi quella pala mi bocciano tutto il progetto cioè uscite di questo genere magari potesse farlo a Puglia perché siccome l'energia è materia concorrente le norme su queste problematiche sono dettate da leggi nazionali noi abbiamo e le leggi nazionali si ma i progetti li approvate voi si ma sulla base di leggi nazionali di norme nazionali noi abbiamo fatto io trovo una grande discrezionalità soprattutto da parte della burocrazia questo è il problema noi abbiamo provato a definire le regole perché ad un certo punto ci siamo accorti che c'era uno spreco di territorio che i campi venivano dismessi dall'attività agricola e trasformati in aree appunto di produzione di energia rinnovabile questa cosa non è buona abbiamo provato a porre argi lei è convinto che con il pannello sul bagno di casa riusciamo a sostituire le energie tradizionali io sono convinto che si possa raggiungere un alto grado di autonomia solarizzando tutti gli spazi già utilizzati non solo il bagno di casa ma per esempio tutti i capannoni industriali delle zone tradizionali tutti gli studi ci dicono che si può raggiungere certamente un livello più alto di autonomia siccome manca un piano energetico nazionale e questo è il problema manca un piano e manca una legge nazionale quindi noi lavoriamo in un vuoto nel quale che mi dice per sostituire quel 6% credo sia il 6% di energia nucleare che utilizziamo acquistandola all'estero visto che noi abbiamo deciso di non farle quante paleoliche o quanti pannelli mi servono per raggiungere quel 6% va bene che estensione se no parliamo diciamo se tutti i capannoni ci mettiamo ce la facciamo no non ce la facciamo l'autonomia solo con il rinnovabile no ma indubbiamente per gli usi domestici non sembra di dubbio che l'autonomia si possa raggiungere per gli usi industriali no stiamo parlando del fabbisogno complessivo no ma stiamo parlando del fabbisogno domestico il che significa incidere sul 30-40% del fabbisogno complessivo non è poco incominciamo a farlo e questo è appunto stato l'obiettivo che abbiamo perseguito anche attraverso politiche pubbliche noi su quello diamo il massimo di agevolazione creiamo diciamo le condizioni di immediata fattibilità no chi vuole mettere il pannello solare su cui tra l'altro c'è una grande innovazione tecnologica non sono più quelle di una volta no e costano molto di meno sono molto più flessibili hanno un maggiore rendimento insomma stanno accadendo cose molto interessanti lo faccia e facendolo consente di abbassare la bolletta energetica pugliese e di realizzare delle economie di scala per esempio a Melpignano hanno fatto una cooperativa di comunità nella quale sono i cittadini stessi a gestire gli insediamenti e il surplus di energia venduta viene utilizzata per pagare una serie di servizi sociali del territorio cioè si chiude la filiera cioè stiamo all'inizio di questa rivoluzione senza sprecare il territorio il territorio risorsa scarsa questo voglio dire Emiliano diciamo sui termovalorizzatori nicchia nicchia no fa capire di essere favorevole che è stato un errore non fa realizzare una serie di termovalorizzatori ad esempio quello di Trani che pagando anche dei danni che era diciamo l'ha là per essere realizzato poi è arrivato Nichi Vendola e ha bloccato tutto diciamo anche se poi alla Marcegaglia gliel'ha fatto fare a Cerignolo perché partiamo dalla fine perché partiamo dai termovalorizzatori io voglio partire dal fatto io voglio sapere la sua posizione sui termovalorizzatori io voglio partire dal fatto non mi dica a conclusione del ciclo voglio partire dal fatto che noi stiamo ancora al 23% di raccolta differenziata e l'obiettivo che c'eravamo posti l'obiettivo ragionevole in tutte le politiche di chiusura del ciclo di rifiuti è almeno il 55-60% voglio parlare del fatto che la Bari di Emiliano ha 10 anni appunto di esperienza amministrativa sua ancora il 22% all'incirca è assolutamente inaccettabile cioè il tema termovalorizzatore si potrà porre in modo serio in modo credibile assolutamente sì io la lascia al 17% credo che sta al 23-24% insomma dopo i 14 anni funesti e azzollini voglio dire facciamo un balzo da 0-17 poi in 14 anni si è fermato mentre i quartieri di Andria hanno raggiunto il 70% va bene sono un pezzo diciamo avanzatissimo di come raccolta porta a porta e così via possono produrre dei risultati eccezionali allora questo è il primo obiettivo realizziamo una spinta campagna per la raccolta differenziata creando le infrastrutture per la gestione di tutto l'umido che viene raccolto ma una volta raggiunto si fanno i termovalorizzatori ma potremmo farlo credibilmente solo quando nei termovalorizzatori si tratterà di smaltire il 10-20% ma non si arriverà non è certo che si arriva in tutti i paesi occidentali in tutta l'Europa si raggiunge quello perché se diventa invece un modo per dire non facciamo una raccolta differenziata e smaltiamo tutto lì no quello va però significherà davvero dire ai pugliesi sarei già felice se si superasse predisposto se si arrivasse a una cifra del 50-60% di che cosa di differenziata di differenziata magari farei se a quel punto possiamo già cominciare a parlare di termovalorizzatori assolutamente sono d'accordo abbiamo finito abbiamo sfolato devo chiudere se no poi mi devo stare a sentire a Sabina Roberto che è il responsabile del palinsesto mi ne vede ci conosciamo la prima campagna elettorale che ho seguito erano tutti i due più giovani 21 anni fa nel 93 lei si candidò sindaco di Molfetta in una campagna elettorale credo fossero 8 i candidati sindaco 7 una grande confusione eccetera eccetera era tra i favoriti ma non il favorito comunque alla fine non era il favorito tu ricordi che il favorito era il barusconi locale e lei fece quella campagna elettorale con il nodo al fazzoletto va bene e il nodo al fazzoletto che era dice beh ricordiamoci di che cosa è successo sinora questo nodo ci deve far ricordare che cosa è successo non ci deve far perdere la memoria torna ad attualità quel nodo in questa competizione elettorale ma al contrario nel senso ricordiamoci quello che è accaduto in questi dieci anni come è cambiata la Puglia e non buttiamola a mare perché il rischio vero che io scorgo all'orizzonte proprio anche in queste primarie anche per le cose che Emiliano sta dicendo è che possa essere buttato tutto a mare in nome di un'idea molto vaga molto confusa di accordi opachi di rapporti trasversali di pezzi appunto di ceto politico che si sposta perché magari oggi il piatto della Puglia è succulento metterci le mani magari significa fare delle operazioni molto molto redditizie no? allora vedo tutto questo torbido e dico occhio facciamoci il nodo perché questi dieci anni non possono essere buttati a mare sono il più grande patrimonio di cui disponiamo un patrimonio appunto di speranza e su questo patrimonio vale la pena rilanciare reinvestire piuttosto che appunto rinunciare bene ci possiamo fermare qui grazie grazie a te Minervini per essere intervenuto nella nostra trasmissione grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesia attenzione a risentirci grazie a tutti grazie a tutti